... ... ... ... ... ... ... Grazie per salutare, se l'hai benvenuto, è il tavolo giallo nazionale, buonasera. Grazie a tutti insieme, la musica suena, la noce dei cristalli, buonasera e stella, la musica suena, la noce dei cristalli, buonasera e stella. Grazie a tutti insieme, la musica suena, 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 La saluta è una mia scuola che si sta lanciando un ragazzo in pieno. La saluta è una mia scuola che si sta lanciando un ragazzo in pieno.